Salve a tutti, quanti di voi sanno cosa sono le espressioni regolari? Regular expressions, perfetto. Sono un linguaggio che permette di definire pattern all'interno del testo e poterli riconoscere, estrarre e descrivere comunque il contenuto del testo con un linguaggio molto compatto. Può servire per esempio per riconoscere una parola all'interno di un testo, oppure riconoscere una data, oppure riconoscere un numero in un formato particolare. Quindi sono un buono strumento per fare cosa? Per tutti i casi in cui dobbiamo fare pattern matching, quindi riconoscere delle particolari stringhe, i formati di stringa all'interno di un testo, ma sono molto utili anche in tutti i casi in cui dobbiamo fare search replace. Vediamo un attimo, vorrei fare rapidamente una piccola introduzione su qual è la grammatica delle espressioni regolari e come si usano in Ruby. E poi vediamo un po' di suggerimenti e trucchi per poterli sviluppare meglio e con minori problemi. In Ruby le regular expression hanno... c'è un oggetto nella libreria base standard di Ruby che è RegExp. Al costruttore possiamo passare la stringa che rappresenta la regular expression e otteniamo la regular expression utilizzabile all'interno del linguaggio. C'è anche modo con due formati, che sono quelli che vedete lì sotto, di definire una notazione letterale, quindi direttamente ottenere un'istanza dell'oggetto RegExp. Il primo caso è quello un po' più verboso, il secondo caso è quello che vedremo in tutti gli esempi, è quello che vedrete nella maggior parte del codice Ruby con il doppio backslash. Dunque, dentro una regular expression abbiamo detto pattern, matchare pattern all'interno di un testo. Una regular expression può essere semplicemente una stringa letterale, in quel caso cut, matcherà tutte le sequenze delle lettere C, A, T all'interno del testo. Il punto è un carattere speciale nelle regular expression perché può matchare, può corrispondere a un qualsiasi carattere, escluso il new line. Vedremo se c'è un'eccezione a questo, la vedremo tra un attimo. Come abbiamo detto, c'è la possibilità di rendere compatte questi pattern, quindi possiamo decidere che, possiamo specificare diverse classi di carattere, quelle che si chiamano nel gergo Charakter Classes, che non sono altro che definire una sequenza di lettere, un insieme di lettere che possono matchare all'interno del testo. Sono delimitati dalle parentesi quadre, nel primo caso sono solo le vocali, nel secondo caso tutte le lettere da Z, oppure solo le cifre da 0 e 1. Possiamo dire che quella particolare classe di caratteri è la classe che non contiene i caratteri che seguono e possiamo anche, come avevamo detto prima, possiamo anche modificare il comportamento della regular expression in modo tale da fare in modo, per esempio, che il punto matchi anche il new line. Questo si fa ponendo dopo la regular expression nella definizione letterale, oppure passandolo come opzione al caso di costruzione con un oggetto, passando dei modificatori che ci permettono di dire che per esempio il nostro pattern matcha indipendentemente dal case oppure matcha anche il new line o matcha escludendo il white space e questo ci può servire quando, se vogliamo descrivere una regular expression nel codice molto complessa, possiamo usare le white space e i commenti per commentare la regular expression all'interno del codice. Le classi di caratteri che sono più usate hanno delle scorciatoie per definirle. Ci sono classi, short time classes, che definiscono il digit, cioè solo le cifre numeriche, solo il white space, solo i caratteri. Word charters sarebbero i caratteri da z, asci, per esempio. Oppure solo le cifre esadecimali, quindi i caratteri da f e i numeri e le negazioni delle stesse classi. Oltre che definire un... permetteci di specificare un carattere o una classe di caratteri, possiamo indicare con delle sequenze di escape o con dei caratteri particolari anche delle posizioni all'interno della stringa. Per esempio, possiamo... abbiamo modo di definire l'inizio della linea, la fine della linea. In questa maniera possiamo decidere di matchare una stringa nella sua interezza, ma possiamo anche definire la posizione subito prima dell'inizio della parola e subito dopo l'inizio della parola, la fine di una parola. Così come, e vedremo l'importanza di questo tra qualche slide, possiamo definire l'inizio della stringa e la fine della stringa. Quelle che vedete in alto sono l'inizio di una linea e la fine di una linea. Significa che non matchano, per esempio, la fine della linea non match il new line. Mai. L'ultime, quelli sotto, invece, matchano l'inizio della stringa e la fine della stringa in ogni caso. quindi anche se abbiamo string con dei new line, con dei a capo. E qui già iniziamo a vedere un po' della complicazione perché con il backslash z ce ne sono due versioni, una con il maiuscolo, una con il minuscolo, con un comportamento leggermente diverso. Quello da usare normalmente perché ha il significato vero che intendiamo dare al significato della posizione della fine della stringa è quello con il minuscolo. Nella sintassi delle regole expression possiamo definire l'alternanza, cioè la possibilità di matchare una o l'altra di due stringhe o substringhe. Nel primo caso matcha cat e matcha anche dog. Abbiamo un operatore che è la star che permette di matchare zero o più caratteri. Quella regola, questa espressione regolare qui matcha sia tutte le stringhe che iniziano per A e proseguono con un numero uguale a zero o più caratteri B. Mentre invece se usiamo il più invece che l'asterisco, il più identifica le stringhe che hanno una o più ripetizioni. Quindi nel secondo caso matcha, la regola expression matcha le stringhe che iniziano per A e proseguono con un numero di B maggiore o uguale a uno. Ma possiamo anche definire una regola expression che ci permette di dare un numero esatto di stringhe. In questo caso mettendo il numero tra parentesi graffa e questa regola expression matcha A, B, B ma non A, B e neanche la stringa con più B in sequenza nella sua interezza. Match sarebbe soltanto la prima parte. Una cosa importante della sintassi delle espressioni regolari è che i match sono gridi. Cioè tendono a accumulare quanti più caratteri è possibile accumulare posto che insomma sia il risultato sia un match sulla stringa. Questo non sempre è quello che vogliamo a volte vogliamo matchare soltanto una piccola parte una prima parte della stringa e in questo caso possiamo chiedere che il match possiamo chiedere che la ripetizione sia lezi cioè si fermi al primo istante in cui la prima posizione nella stringa in cui il componente che la precede è matchato. In questo caso il punto corrisponde a un carattere qualsiasi e questo primo diciamo elemento della regular expression matcha soltanto il matcherà soltanto il primo D ok? Invece nel primo caso il punto matcha soltanto matcherà tutta la stringa fino al secondo cut possiamo raggruppare come abbiamo visto prima le ripetizioni le repetition cioè la stella l'asterisco e il più si applicano al carattere precedente oppure al gruppo alla sotto espressione regolare che la precede delimitata dalle parentesi le parentesi servono oltre che per raggruppare servono anche per permetterci di catturare una parte di estrarre un sottinsieme una sottoparte dell'espressione regolare in Ruby poi una volta fatto il match con la regular expression gli elementi che sono contenuti all'interno che vengono catturati all'interno dei gruppi sono a disposizione nelle variabili dollaro 1 dollaro 2 dollaro 3 a seconda di quanti sono i gruppi che abbiamo descritto all'interno della regular expression possiamo anche fare in modo che ci siano dei gruppi che non ci servono per catturare ci servono puramente per raggruppare degli elementi e li possiamo definire mettendo il punto interrogativo e i due punti subito dopo la parentesi aperta questi sono comunque utili per poter organizzare meglio la descrizione del pattern un altro caso particolare di grouping molto importante è questo che vedete qui sotto che permette di evitare che se la regular expression non viene il gruppo non viene matchato l'engine che implementa le espressioni regolari torni indietro per provare a matchare una parte più piccola di espressione regolare questo è importante lo vedremo quando vediamo i casi casi cattivi di regular expression come si usano da ruby si possono usare per abbiamo detto fare string substitution le string hanno un metodo sub tutte le string hanno un metodo sub a cui si può passare come primo come primo parametro una regular expression che identifica cosa stiamo cercando all'interno e cosa vogliamo sostituire all'interno della stringa e come secondo parametro una stringa alla sostituzione se facciamo se usiamo il metodo sub solo la prima dei match vengono sostituiti se usiamo il metodo gsub che è la short end per global sub tutte le istanze vengono sostituite in questo caso tutte le istanze di cut vengono sostituite dalle lettere dog una cosa interessante è che è possibile usare anche le è possibile usare anche le back reference cioè è possibile anche sostituire all'interno della della stringa usare all'interno della stringa il match contenuto in uno dei gruppi questo significa che quando adesso non so se qua il commento è giusto ma in questo caso noi cosa stiamo facendo match il primo il primo cut e poi sostituiamo a tutta la stringa dog seguito dalla questo è sbagliato evidentemente dog seguito dal match contenuto nel gruppo questo doppio backslash con il numero è equivalente a mettere ad usare al di fuori della stringa il dollaro uno forse il primo cut non è matchato perché c'è lo slash v guarda questo probabilmente è solo un copia in colla che ho sbagliato sicuramente non è quello è corretto è corretto ok giusto 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 un ultimo esempio di come si usa la string substitution è quello di passare un blocco invece di passare il secondo replacement si passa un blocco si può passare un blocco che viene eseguito per ciascuna sostituzione passando al al blocco il contenuto passando al blocco il contenuto per esempio del match m è il match in questo caso sarebbe cut eats cat food ok dollaro uno qui dentro posso usarlo direttamente come userei al di fuori del codice ruby in caso di un match l'esecuzione di un match e in questo caso faccio il reverse della string e sostituisco tutto cut food con l'inverso del match che è doof in quel caso scusami m è dollaro uno o non è dollaro? no m è tutto il match tutto l'oggetto matchato tutto il pezzo di stringa matchato in quel caso sarebbe cut food si può fare string parsing quindi il metodo delle string hanno un metodo scan che permette di passare una regola di expression e trovare all'interno di una stringa tutte le sottostringe che matchano quella regola di expression se uso i gruppi il risultato non è un array di string di match ma è un array di array ciascuno come in questo caso con motion rom da marzo dal 20 marzo al 23 marzo il primo gruppo sono tre lettere il secondo gruppo sono uno o due numeri e quindi in questo caso qui sopra non abbiamo gruppi quindi viene ritornato tutto il match tutti i due match in questo secondo caso vengono ritornati i due gruppi ok stessa cosa nel caso di scan ancora come è tipico nel codice ruby si può passare un blocco in questo caso il blocco viene eseguito passando come parametri i match ok che altro abbiamo visto i metodi delle string che usano le regole expression perché sono probabilmente i primi casi i primi esempi in cui useremo una regular expression un altro uso tipico in ruby della regular expression è per matchare una stringa e verificare che una stringa abbia un segue un certo pattern l'operatore uguale tilde è quello che permette di fare questo match e insomma in questo caso match la parola word e essendoci il gruppo dentro al dollaro 1 possiamo trovare il contenuto del gruppo matchato equivalente a questa forma di matching è quella in cui chiamiamo il metodo match dell'oggetto regular expression ok il risultato di quello che viene ritornato dal match dal metodo match è nil se non esiste un match se esiste un match viene ritornato un match un oggetto di tipo match data che contiene che si comporta sostanzialmente come un array e contiene indicizzate con il numero con il progressivo dei gruppi tutte le diciamo le le stringhe contenute all'interno dei gruppi stessi in questo caso match data dentro match data 1 otterremo il la parola word saliamo ancora di di livello sul nell'uso in ruby delle regular expression rails è sicuramente il framework più usato per per applicazioni web in ruby e in rails nell'applicazione rails c'è un abbastanza diffuso l'uso in vari contesti per esempio nel routing posso definire un url il routing permette di definire delle url degli end point http all'interno dell'applicazione che match un qualche un qualche formato in questo caso sarà slash path slash un qualcosa un id e possiamo richiedere con un'opzione costrente che l'id abbia un certo formato il formato lo possiamo definire passando nella regular expression in ruby e in rails tanto che per esempio anche la validation è un altro utilizzo molto preciso delle regole expression per esempio validiamo il formato di un campo telefono in modo che sia formato così lo accettiamo lo accetteremo soltanto se nella sua interezza la stringa quindi slash backslash a backslash z se è se è composto da da due a quattro numeri seguiti da uno o più spazi seguiti da uno o più numeri però possiamo anche questo è uno short end per il formato di validazione che vedete qui sotto equivale a dire accettiamo il formato con la seguente regular expression possiamo anche dire che vediamo tutti i numeri che non corrispondono alla regular expression in questo caso non vediamo tutti i numeri che non iniziano per il prefisso di Milano ok ma Rails usa anche usa molto le regular expression anche all'interno del framework le usa pure troppo qualche esempio questo qui è questa è l'implementazione del numerical validator quando in Rails usate validate set number quello che viene fatto è sostanzialmente usare questo tipo di validazione quindi un più o meno opzionali seguiti da una sequenza di numeri dall'inizio alla fine l'altro un altro esempio è una una regular expression più complicata dove vedete anche i commenti questo è multiline è stato usato il il modificatore X che non tiene conto del whitespace non tiene conto dei commenti quindi possiamo fare una regular expression complicata ma che è comprensibile perché è spezzata su più righe ben formattata altri esempi di specifica dei wildcard path nel routing tutti questi sono presi pari pari dal framework però questo è anche un problema l'uso esteso delle regular expression perché possono essere pericolose questo è quello che ha postato su Y Combinator Thomas Tacek che è un importante esperto di sicurezza il giorno dopo il 6 di febbraio di quest'anno dopo l'uscita di una patch di sicurezza di Rails se devo fare una scommessa su quello che saranno le prossime vulnerabilità che ci sono sono quasi sicuro che le prossime vulnerabilità riguarderanno l'uso delle regular expression all'interno del codice di Rails perché non sono tranquillo per quanto Rails utilizza le regular expression per fare policy validation come abbiamo visto prima per esempio validare trusted proxies ok in questo caso questa non rappresenta in questo caso specifico un problema di sicurezza però però lo vedremo 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 un esempio in cui non è stata usata una best practice e questo ha causato due problemi di sicurezza a distanza di un mese circa quindi avrebbe vinto la scommessa vediamo un po' di tips generici bisogna stare attenti ai nest quantifiers cioè bisogna stare attenti ai casi in cui abbiamo dei quantifiers delle ripetizioni che a loro volta sono ripetute in particolare dobbiamo stare attenti ed è molto pericoloso avere dei casi in cui una certa sequenza di ripetizioni può matchare in due o tre modi diversi allo stesso tempo in questo caso la sequenza questa sequenza è una sequenza di x seguita da un'altra sequenza di x che può essere a sua volta ripetuta cosa succede? succede che quando questo termina tutto con una y quando la y c'è in fondo va tutto bene arriva in fondo matcha tutte le x poi trova la y esce immediatamente se la y non c'è però inizia a tornare indietro un carattere alla volta e riespandere prova a tornare indietro e riespandere e questo esplode in maniera esponenziale vi faccio vedere adesso vediamo se ce la faccio l'esempio di vediamo un po' allora questo qua è il caso ok l'ha trovata alla posizione zero se però io inizio a mettere un po' più di x e fare il run di questa sta ancora girando non è ancora finito sta continuando a girare poche x in più eppure insomma ci ha messo qualche secondo se iniziava a diventare una stringa di 70-80 caratteri ci avrebbe messo una cifra di tempo cosa dobbiamo fare in questi casi di regular expression che sono patologiche una prima possibilità è riscriverle quella sopra è equivalente a quella sotto quella sotto non ha il problema perché non ha un doppio gruppo una doppia ripetizione che può matchare in due modi diversi allo stesso tempo un altro modo è quello di usare quel modificatore del gruppo che fa in modo che in caso di fallimento non venga fatto backtracking backtracking è quando viene ridotto la dimensione del match per poter provare a matchare una stringa più corta in tutti i due casi queste queste regular expression si comportano in maniera sana se io prendo la stringa questa stringa qui e la metto qui dentro e la eseguo è immediata ok stessa cosa per l'altro un'altra cosa di cui stare attenti è di non rendere tutto opzionale per esempio vogliamo matchare dei numeri ok dei numeri dei float qui abbiamo detto che il float può partire con più o meno seguito da una sequenza di numeri da zero zero più numeri seguito da un punto seguito da una sequenza di numeri il problema di questa espressione è che match anche il punto match anche soltanto il punto che non è un'espressione un numero valido per noi non potremo trasformarlo facilmente non float come facciamo a fare a evitare questo problema dobbiamo agganciare in qualche modo la regular expression evitando che ci siano che tutte le sezioni siano opzionali per esempio in questo caso abbiamo fatto in modo che abbiamo descritto in maniera molto più specifica la parte i numeri che contengono il punto dicendo che i numeri che contengono il punto devono sempre avere un numero dopo la virgola e abbiamo descritto in maniera più puntuale i numeri che non hanno la virgola dicendo che sono numeri che comunque contengono almeno una cifra questo è un modo alternativo per fare la stessa cosa un'altra cosa che un altro tip che vi posso dare nel scrivere regular expression è quello di valutare i trade off nel matching cioè valutare quanto vogliamo che sia preciso il matching rispetto a quello che vogliamo ottenere che dobbiamo ottenere ci crediate o no questo blocco nella sua globalità è una regular expression che più o meno riesce a matchare tutti gli indirizzi di post elettronica validi è chiaro che scrivere una roba del genere oltretutto non matcha perfettamente tutti gli indirizzi di post elettronica validi è un po' assurdo sarebbe anche complicato da debuggare quella sotto matcha tutti gli indirizzi validi matcha anche qualche indirizzo che non è valido di post elettronica perché matcha tutte le robe che hanno una parte nome valida seguita da uno o più elementi che corrispondono ai domini da secondo livello in su e un terzo livello che può essere qualsiasi ripetizione di lettere da 2 a 4 ci sono dei domini che rimangono fuori c'è per esempio il dominio .museum che rimane fuori però è più probabile che se uno scrive un indirizzo che termina per .museum si sia dimenticato di mettere un .com alla fine piuttosto che non abbia un indirizzo di post elettronica veramente sul dominio uffizi.museum ok altro caso in cui il risultato è controintuitivo questa regola expression io l'ho dovuta provare perché non non l'avevo capita alla prima quando l'ho vista noi vogliamo matchare tutti i token che partono per un punto esclamativo finiscono per un punto esclamativo e contengono uno o più ripetizioni delle string abc e 1,2,3 può essere abc 1,2,3 seguita ancora da abc oppure 1,2,3 abc gruppandolo così cioè gruppando ripetendo il gruppo per le stringhe che matchano il contenuto del gruppo sarà soltanto l'ultimo pezzetto di token e non tutto come facciamo quando in realtà probabilmente quello che volevamo facendo così è avere tutto il contenuto che sta tra i due punti esclamativi per farlo dobbiamo catturare i gruppi ripetuti ok quindi usare un altro paio di parentesi tonde attorno alla ripetizione del gruppo una cosa che si può fare con Ruby è usare l'interpolazione cioè possiamo prendere una stringa magari ce l'abbiamo dentro una configurazione qualcosa del genere l'otteniamo dinamicamente da qualche parte e possiamo generare la regular expression passando la stringa all'interno del letterale della regular expression così come lo faremo per interpolarla all'interno di un'altra di un'altra stringa ok quindi hash con le parentesi graffe questo equivale ad avere la regular expression che fa slash cut slash bisogna usarlo con cura con attenzione perché soprattutto se riceviamo l'origine di quella di quella stringa non è trusted questo può aprirci sia denial of service problemi di sicurezza perché ovviamente come abbiamo visto è possibile scrivere regular expression che si comportano in maniera patologica quindi se qualcuno ci può mandare una regular expression e noi l'accettiamo senza alcun controllo questo può essere un problema per fortuna abbiamo l'oggetto reg exp ha un metodo quote che ci evita questo quindi se dentro della stringa venisse passata una regular expression che contiene i caratteri speciali come il repetition il più la star i gruppi usando quote questa stringa verrebbe quotata e quindi quei caratteri speciali sarebbero interpretati come letterali l'ultimo tip che volevo far vedere era il fatto che non dobbiamo mai usare o limitare o sapere quando usare l'apice e il punto e il dollaro per matchare l'inizio e la fine della stringa in particolare non li dobbiamo usare mai quando vogliamo matchare l'inizio e la fine della stringa perché quelli matchano l'inizio e la fine della riga per esempio se noi avessimo valide surl con un format un qualcosa che inizia per vogliamo validare l'url come qualcosa che inizia per htps http o htps e ci mettiamo l'apice questo è un problema perché l'apice matcha soltanto matcha l'inizio della riga e se qualcuno ci passa come url un qualcosa che contiene un newline possiamo accettare della roba che non vorremmo per cui per esempio se ci passano dentro nei parametri una cosa che ha del codice javascript poi un percento zero a che è il newline noi l'accettiamo come valida quindi noi possiamo accettare come valida questa cosa poi lo usiamo magari mettendolo in un link e quel link diventa un link javascript questo è un esempio in cui in cross site scripting possiamo avere problemi di quel genere insomma se usiamo invece il backslash a questo non accade perché nel secondo caso matchiamo l'inizio della stringa ok e non l'inizio della riga in questo ci sono caduti con rails questo è di febbraio una patch di febbraio questo è il numero di codice c'era una reg exp che permetteva di che controllava diciamo la la validità di un di una stringa che descriveva che descrive il il nome del del campo con l'inizio della stringa mentre invece quello che serviva veramente era matchare l'inizio della stringa non l'inizio del new line questo era un esempio in cui formattando in maniera particolare il messaggio che arrivava potevamo aggirare la validazione per il mass assignment altro caso di regular expression che aveva qualche problema ok ma questo era febbraio dopo questa dopo questa patch qui Tacek aveva fatto quel commento ok il 15 di marzo altro esempio di regular expression altro patch di sicurezza per dire che insomma la sono utili vanno usati sappiamo che ci possono servire molto per compattare per fare string matching ma dobbiamo imparare anche a a gestirle a debaggarle esatto era quello il problema era quello prima quell'esempio prima che ti facevo dove c'era la possibilità di matchare un url con già esattamente quello era quindi quel caso è per race però la stessa persona che ha fatto da cui ho preso un post ho preso quel quell'esempio ha fatto era anche la stessa persona che ha fatto la cosa su facebook primo consiglio quando si inizia a usarle anche dopo ci sono dei cheat sheet con tutte la sintassi stamparla e tenerla vicino secondo cosa il secondo sito interessante regular expression .info è la bibbia delle regular expression ci trovate anche le spiegazioni diciamo di teoria che riguardano l'argomento per fare debugging ci sono due siti molto carini rubulare e rubyxp il primo è fatto molto bene diciamo è il default per fare test di espressioni irregolari ruby il secondo ha di su che è open source trovate il codice su github ve lo potete installare potete provare l'ultimo esempio è un sito che ancora anche questo qui è open source non usa le regular expression non permette di visualizzare le regular expression non tanto quelle ruby quanto quelle javascript ma per una buona percentuale delle opzioni del linguaggio sono esattamente le stesse per cui può essere utile per capire cosa fanno le regular expression che stiamo sviluppando lo faccio vedere un secondo questo è carino ok questo è ruby ruby xp quindi io qua ho la regular expression ho la stringa faccio il match e vabbè adesso questo l'avevo già eseguito ma mi dà il risultato il match questo non fa un gsub quindi matcha solo la prima e dice quali sono i capture disponibili regexpert invece è questo metto una regular expression sopra e lui ne dà una rappresentazione grafica è molto utile per capire cosa fa insomma questa è quella che vediamo prima più semplice per l'email quindi ti dice che matcha una sequenza di uno di questi caratteri seguito da un un et seguito da una sequenza di caratteri seguita da un punto ripetuto più volte l'area del domino la parte del domino del secondo livello seguito da una stringa di caratteri da az due o quattro caratteri questo è quanto grazie se ci sono domande sono qua per qualche minuto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti